In realtà al termine del mandato stiamo facendo un'assemblea di sintesi di tutte le cose di cui ci siamo occupati e uno dei temi più importanti per noi è stato proprio quello dell'Europa, perché oggi vediamo una grande debolezza ma in questa debolezza anche una grande opportunità in cui l'Europa deve trovare l'opportunità di rimettere la politica al centro per affrontare delle tematiche che a livello nazionale i singoli stati non sono più in grado di gestire o hanno dimostrato di aver fallito. La maggior parte della politica che riguarda le attività produttive di fatto si svolge a Bruxelles e quindi noi abbiamo bisogno che il presidio dal punto di vista dell'influenza, della partecipazione, della competenza dei nostri eurodeputati sia totale e abbiamo bisogno di agire lì e nei tempi giusti, non quando ormai le norme sono già fatte. Quindi abbiamo bisogno di un governo e certo che con il nuovo rapporto rappresentante all'Europa un passo avanti con calenda è stato fatto.